E' stata seppellita questa mattina presso il cimitero di Sant'Arsenio la signora Enza Magliano, l'87enne originaria di Sapri e residente a Policastro, morta la scorsa settimana per una grave malattia presso l'hospice Sant'Arsenese, a farsi carico di una degna sepoltura a una lontana nipote per parte di marito che vive a Roma. Le ricerche dei parenti, che si occupavano dell'anziana da tempo assistita presso la casa di riposo di Torraca, hanno alla fine dato i loro frutti. E' stata rintracciata una nipote che non ha esitato a farsi carico di tutte le spese del funerale collaborando con l'amministrazione di Sant'Arsenio che le ha trovato un posto presso il cimitero cittadino. Finisce dunque bene nel segno dell'umanità una storia che aveva lasciato attoniti e indignati i cittadini dell'intero comprensorio quando la notizia era venuta alla luce a causa del passamano di competenze e per le difficoltà di trovare chi si occupasse dei funerali. La signora infatti era arrivata all'ospice dalla struttura residenziale assistita di Torraca. Dopo qualche giorno era purtroppo deceduta da sola e senza che nessuno per giorni venisse a reclamarne il corpo. Di qui l'avvio delle indagini da parte del sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, per cercare di ricostruire la storia della donna e individuare chi se ne potesse prendere cura arrivando fin nel golfo di Policastro per trovare strutture, enti o parenti. Alla fine, mentre cresceva il clamore attorno alla vicenda e già un fioraio di Sant'Arsenio si era fatto avanti per regalare i fiori della funzione, è stata rintracciata la lontana parente che, appresa la morte della donna, ha deciso di farsi carico di tutto. Stamane la funzione religiosa e il seppellimento. La signora ora può riposare in pace presso il cimitero di Sant'Arsenio.